Il Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, ha invitato la comunità diocesana a pregare domani a mezzogiorno il Padre Nostro. Domani è il giorno dell'annunciazione del Signore. Ad avvertire le tre città della diocesi dell'appuntamento sarà il suono delle campane. Sentite. Raccogliendo l'invito di Papa Francesco lanciato durante l'Angelus di domenica 22 marzo a tutti i cristiani in questi giorni di prova a pregare tutti insieme il Padre Nostro, anche il Vescovo di Andria, Monsignor Luigi Manzi, invita tutta la comunità alla preghiera, in particolare domani 25 marzo, giorno dell'annunciazione a mezzogiorno. Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l'annuncio alla Vergine Maria dell'Incarnazione del Verbo, scrive Manzi, possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli. Chiedo a tutti i parroci e rettori di chiese di accompagnare questo significativo momento di preghiera col suono a festa delle campane in tutte e tre le città della diocesi. La Conferenza Episcopale Italiana intanto ha suggerito a tutti i Vescovi di compiere il prossimo venerdì 27 marzo un gesto di preghiera al cimitero in suffragio di tutti i defunti deceduti a causa della pandemia e che non hanno avuto la possibilità della rituale celebrazione sequiale. Il Vescovo di Andria accoglie anche questo invito e da solo si reccherà venerdì 27 marzo alle 16 al cimitero di Andria per un momento di preghiera. Ho chiesto ai coordinatori di zona di Canosa di Puglia e Minervino Murge spiega Manzi di compiere lo stesso gesto sempre da soli presso i locali cimiteri. Chiedo a tutti i parroci e rettori di chiese di accompagnare questo gesto di preghiera col suono delle campane a lutto.